Buongiorno, io mi chiamo Teresa Colombo e sono una ricercatrice dell'Unione Nazionale delle Ricerche, in particolare dell'Istituto di Biologia e Patologie Molecolari. Io mi occupo di bioinformatica ed oggi è stato bellissimo interagire con questa platea gremita di ragazzi dei licei e in questa giornata organizzata da Fondazione Mondo Digitale. Ci hanno chiesto di portare il nostro esempio, di seminare curiosità, in particolare io mi sono occupata di condividere con i ragazzi l'entusiasmo, la passione che ho nel mio lavoro per la genomica, una rivoluzione che convolge tutti noi e il messaggio che ho scelto di passare, che spero sia arrivato a questi bellissimi ragazzi, è che c'è spazio, c'è ottimismo, c'è tantissimo da fare, abbiamo bisogno di tanti giovani e quindi si arriva alla bioinformatica che è una disciplina mista da tante vie, la matematica, l'informatica, la biologia e quindi tante persone possono incontrare in questo campo attivo e pieno di opportunità un'occasione professionale.